Buonasera a tutti, buonasera Piero. Buonasera a voi. È un appuntamento importante questo perché è il derby dell'Urbetever, giocate per la seconda volta dopo 17 giorni. Due settimane fa avete perso 1-0 con un gol preso dopo 5 minuti appena. Non siete stati praticamente mai in grado di entrare nell'area di rigore avversaria. Quest'anno però, adesso ti aspetti una partita diversa. Beh sì, adesso stiamo recuperando un po' di pezzi, quindi speriamo che stasera sia la volta buona che riusciamo a fare il risultato. Però lo direi soltanto il campo. I ragazzi sono abbastanza cari e noi possiamo aspettare l'inizio della partita e augurarci il meglio. Tu sei in borghese, però vedo che Di Croce non è più in borghese finalmente per voi perché avete ritrovato una pedina importante dell'attacco. Due gol che ha fatto nella prima partita, quella ufficiale contro il Maccabi nel trofeo Cesari, poi l'infortunio ed è letteralmente scomparso dai radar. Quanto secondo te può essere importante un ritorno come il suo? Per noi è fondamentale. Riccardo Di Croce per noi è la nostra punta di diamante. Ci affidiamo molto a lui per tirare su questa squadra. È mancato parecchio tempo, oltre lui stiamo recuperando anche altri ragazzi. Man mano oggi anche Davide Parigiani entra in lista e altri ragazzi, Spinedoli. Insomma, stiamo rifoltendo nuovamente la rosa con dei ragazzi più giovani perché ahimè noi per età abbiamo dato il nostro contributo, però non è abbastanza. Grazie Piero. Grazie a voi. Grazie a voi.